Ciao Marcello, ciao amici Topland, Juve Bologna 3-0. Bella vittoria, sono contento, abbiamo iniziato l'anno col piede giusto e devo dire che hanno giocato tutti bene ieri. Devo dire che col 4-3-1-2 riusciamo a esprimere il nostro miglior calcio. Anche perché Pjanic, giocando alla trequartista, riesce a fare delle imbucate per i nostri attaccanti, come si è visto ieri per Higuain, che gli ha fatto un passaggio bellissimo e Higuain ha trasformato in gol. Devo dire anche Sturaro che ha giocato bene, come anche Asamoah, che ha giocato veramente bene da terzino, non me l'aspettavo. L'unico che ha visto un po' contratto è Di Bala, che dovrà ancora entrare in condizione. Speriamo che già da domenica contro la Fiorentina riesca a farci vedere quello di cui è capace. Vi saluto e al prossimo video. Fino alla fine, Forza Juve!